Mentre a Sorrento il premier Draghi partecipava con il capo dello Stato Sergio Mattarella e altri ministri al Forum Verso Sud, il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi cominciava dal quartiere di San Giovanni a Teduccio il suo tour napoletano nel mondo della scuola e delle varie realtà del territorio impegnate per evitare che i giovani passino alla manovalanza della camorra. La giornata napoletana del ministro, che si è conclusa nella chiesa del carcere di Nisida con la firma del patto educativo che sbloccherà 40 milioni di euro per la scuola dell'area metropolitana di Napoli, è cominciata nella sede della Fondazione Famiglia di Maria, trasformata dalla presidente Anna Riccardi, oltre che in un presidio di cultura e legalità, anche in un modello di transizione energetica, visto che la struttura è alimentata con l'energia solare. E la fondazione ha bisogno semplicemente di progettualità che continuano. Abbiamo tanti progetti che hanno un inizio e che hanno una fine. Bene, valutiamoli. Se hanno avuto una ricaduta nel quotidiano di quelle famiglie, allora datemi la possibilità di continuarle. Durante l'incontro il ministro si è fermato con i giornalisti a parlare anche di un'altra emergenza che riguarda la scuola campana, i cui studenti continuano a scontare le conseguenze psicologiche di lockdown e didattica a distanza prolungata. Circa 700 gli istituti di ogni ordine grado che hanno richiesto supporto psicologico per gli allievi. Noi non soltanto sappiamo questo problema, ma partendo proprio da questo dato, voi sapete, come io ho voluto assolutamente riportare i ragazzi in classe, il primo settembre, il primo gennaio, perché sono convinto che i ragazzi dovevano tornare in presenza. E ne sono assolutamente convinto. Noi abbiamo al ministero un gruppo che sta lavorando specificatamente su questo. Con un'impostazione, lo psicologo deve essere di supporto alla scuola, non si deve sostituire al ruolo dell'insegnante. È la persona che deve aiutare l'insegnante a cogliere i segni del malessere, guardando negli occhi, e però ci devono essere poi tutti i servizi di supporto. No, no, stiamo lavorando su questo e mi credo non è un problema soltanto della campagna. Non è un problema soltanto della campagna.